Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Allora, innanzitutto vi ricordo sempre il referendum sulla fecondazione assistita, avverrà ai primi di giugno. Ricordatevi sempre, la posta in gioco comunque, in ogni caso, è sempre fra pensare alle persone oggetti di possesso o pensare alle persone padrone di se stesse. Non sempre chi pensa alle persone oggetti di possesso sarà chi possiederà le persone. Quando si costruisce un sistema sociale di schiavismo, spesso non si è schiavisti, è più facile essere schiavi. Pertanto conviene sempre costruire un sistema sociale di libertà, perché la libertà è una cosa che possiamo usare tutti ed è una cosa che possiamo lasciare in eredità. Dopodiché ognuno sceglie. Vi ricordo un'altra cosetta per i cattolici in ascolto. Ricordatevi che chi ha ricorso alla fecondazione assistita essenzialmente sono stati dei cattolici che ritenevano che avere figli fosse un dovere, quasi un mandato dell'esistenza data dal loro Dio. Ebbene, quei cattolici sappiano che la Chiesa cattolica vuole trasformarli in bestiame. E questa è la realtà di questa legge sulla fecondazione assistita. Pertanto scelgano loro cosa vogliono. A volte bisogna guardare anche le proprie mani e scegliere per se stessi. Dopodiché scelgano anche loro. L'appello vale per la costruzione della libertà sociale indipendentemente da quello che è il credo delle persone. Sapete che io non mi tiro indietro quando devo combattere un'idea, ostacolare un credo o una concezione dogmatica, una concezione filosofica che ritengo inaccettabile. Però non offendo le persone, cioè non attacco mai il sentimento religioso delle persone. Se una persona vuole credere, creda pure. L'importante è che il suo credo non vada a danneggiare quello che è la libertà sociale. Significa che tutti possono abortire, nessuno è obbligato ad abortire. La libertà sociale consente alle persone di abortire o di non abortire. La libertà consente alle persone di scegliere che farne della propria esistenza. Se un cattolico è davvero convinto che ci sia un inferno, un paradiso che premia o che condanni, beh, che problema è mio. Lui sa che chi abortirà probabilmente farà peccato e andrà all'inferno. Io dico che non è vero, io dico che è una bagianata, una stronzata. Ma questo lo dico io. Io so che è così. Però nessuno obbligherà mai un cattolico ad abortire. Pertanto, cosa gli frega a un cattolico di togliere la libertà ad un altro? Quando a se stesso non garantisce nulla. Garantisce solo la Chiesa Cattolica il diritto di dominare le persone. Se questa è la concezione che ha lui del cattolicesimo in testa, faccia e si accomodi. Detto questo, ricordo sempre che ai primi di giugno ci stiamo preparando per il congresso delle regioni etniche del VUCEAR, che si terrà ad Anversa. Il congresso è patrocinato dai ministeri, non so se quello della cultura, quello dell'interno, è un altro ministero del Belgio, comunque non ho qui le carte del patrocinio. Comunque è patrocinato dalle istituzioni belghe. Naturalmente, essendo anche un congresso internazionale, chiaramente gli interessi delle istituzioni farlo. Poi, il giorno invece 18 giugno, ci ritroveremo presso il Bosco Sacro di Jesolo per celebrare il Sostizio d'Estate. Questi in sintesi gli appuntamenti. Dopo un periodo abbastanza lungo, che la sera, o per questioni del referendum, o per altre questioni, non ho parlato del crogiolo dello Stragone, riprendo il discorso sul crogiolo dello Stragone, cioè praticamente la via alla stragoneria. Lo riprendo ricordando che ero arrivato praticamente circa a metà sul discorso di sospensione del dialogo interno, cioè la tecnica della stragoneria di sospendere il dialogo interno. Però, non parto da questo discorso, parto da un articolo che è apparso sull'Espresso il giorno 19 maggio. Cioè, non l'ultimo Espresso, il penultimo Espresso, per cui chi li ha preso, l'Espresso lo può verificare questo. E' un articolo che si intitola Uomo da 21 Sensi. Ora, perché vi leggerò questo articolo? Perché è un articolo scientifico, diciamo così, di divulgazione scientifica, che parla delle ultime ricerche neurologiche e delle ultime ricerche sui sensi, Questo aspetto, le ricerche neurologiche e l'uso dei sensi, fu uno dei primissimi lavori che affrontai nel parlare di stragoneria. Voi lo trovate su internet, perché recentemente, cioè un sei mesi fa circa l'ho messo su internet, un pezzo relativo al libro dell'Anticristo, e si chiama L'attenzione. Ebbene, in questo pezzo, che è anche abbastanza corposo, abbastanza consistente come pezzo, lo trovate sul sito Arvales, fra parentesi, praticamente tracciavo quelle che erano le direttrici sull'uso dei sensi attraverso l'attenzione. Ed è uno dei primi scritti, fa parte dell'inizio del mio percorso in stragoneria, dove stavo tentando di mettere a punto quelle che erano le mie scoperte sull'uso dei sensi e sulla variazione dei sensi nella lettura del mondo in cui viviamo. Quel pezzo credo sia stato scritto nel 1990, per cui ha praticamente 15 anni adesso, e in ogni caso alcuni elementi di questo trovate anche negli scritti più vecchi del 1985. Con questo articolo che viene fuori oggi sull'Espresso, conferma tutto questo, e per coloro che hanno seguito il crogiolo dello Stragone, cioè i vari dibattiti che teniamo qui a Radio Gamma 5, questo articolo che vi leggerò non suonerà assolutamente nuovo. Perché? Perché nel fare il crogiolo dello Stragone noi abbiamo elencato prima i dieci elementi, le dieci cose che ci portano a entrare nella natura. Per esempio le determinazioni, per esempio la sospensione del dialogo interno, quello che stiamo leggendo adesso, la meditazione, la contemplazione, il chiederci il perché delle cose, il chiamare le cose con il loro vero nome, eccetera, eccetera. Poi siamo passati ai cinque elementi con cui chi pratica stragoneria si difende nel mondo sociale. E poi i quattro elementi fondamentali per affrontare il mondo della percezione alterata. Ebbene, questo articolo, che parla uomo da 21 sensi, è un articolo scientifico. In pratica non vi dice ciò che vi dice la stragoneria, la stragoneria vi dice come fare, cioè come fare per entrare nel mondo di percezione alterata, come fare per affrontare, afferrare aspetti diversi della realtà, come fare per modificare voi stessi in funzione dei vostri obiettivi. Questo ve lo dice la stragoneria, non ve lo dice la scienza, la scienza non ve lo può dire. La scienza si limita a registrare dei dati di fatto e a descrivere dei dati di fatto. Però, quando la scienza descrive dei dati di fatto, non fa altro che confermare quelle che sono le tensioni e le tendenze della stragoneria. Cioè, l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, cretino e deficiente. L'uomo è divenuto nel mondo in cui è nato, si è trasformato e può continuare questa trasformazione andando oltre l'appiattimento della forma che il sistema sociale gli impone. Cioè, può percepire infinite cose del mondo in cui vive e percependo un numero infinito, un numero maggiore di fenomeni, un numero maggiore di elementi, può descrivere, percepire e vivere il mondo in maniera diversa. Questo è in sintesi. Però questo ve lo può dire solo la stragoneria. La scienza può dire quello che afferma la stragoneria ha delle basi reali o non ha delle basi reali? Bene, se voi prendete il libro dell'anticristo, ad un certo momento il libro dell'anticristo si parla della barriera del GIH. La barriera del GIH è intesa come una barriera bioenergetica posta al centro del cervello che seleziona gli impulsi che partono da parte interna del cervello alla parte esterna, cioè la corteccia cerebrale. Ebbene, un riassunto, un sottotitolo riassuntivo di questo articolo dice le sensazioni che un uomo ha sono infinite. È il cervello che le seleziona e le limita. Per cui non fa altro che dire esattamente ciò che diceva vent'anni fa la stragoneria. Però, attenzione, non è che lo dicesse soltanto la stragoneria, perché io, per riuscire a far comprendere la stragoneria, già cominciavo a leggere quello che erano alcune tensioni che esistevano nel mondo scientifico e che mi permettevano di chiarire cosa mi stava succedendo mentre iniziavo un percorso di stragoneria. Bene, allora leggiamo un po' questo articolo. Uomo da 21 sensi. 5. I neurologi scommettono. Sono molti di più. Ecco perché, seguendo gli stimoli che vanno dagli organi al cervello, ecco perché, seguendo gli stimoli che vanno dagli organi al cervello. L'articolo è di Paola Emilia Cicerone che non ci si fermi a 5 è sicuro. Forse sono una ventina. C'è chi dice molti di più perché l'antico schema di derivazione aristotelica che limitava appunto a 5 il numero dei sensi con cui esploriamo il mondo esterno vista, udito, tatto, gusto e olfatto è tramontato per sempre. Per molti scienziati il numero giusto è 21. Come ci si arriva? Non si parla più di vista perché la percezione della luce è distinta rispetto a quella del colore mentre il gusto si divide in quattro riconoscendo autonomia ai quattro gusti fondamentali dolce, salato, acido e amaro. Con l'eccezione dell'umami. il gusto di glutammato tipico della cucina orientale che è preso in considerazione solo da alcuni studi e se il tatto resta un senso a sé gli si affiancano altri sensi collegati ma autonomi come la percezione del dolore del caldo e del freddo portando così a 12 i tradizionali 5 sensi. per arrivare a 21 basta aggiungere il senso dell'equilibrio d'altronde non l'abbiamo sempre chiamato così e la proprio occezione che ci consente di valutare anche a occhi chiusi attraverso una serie di recettori posti nei muscoli e nelle articolazioni la nostra posizione nello spazio e i nostri movimenti anche se in questo caso si parla più specificatamente di cinestesia e poi i sensori interni che permettono al nostro organismo anche se non ne siamo sempre coscienti di monitorare parametri biologici come la pressione sanguigna l'ossigeno presente nel sangue l'acidità del liquido cerebro spinale e la presenza di aria nei polmoni ma anche valori specifici relativi al contenuto di glucosio nel sangue e alla pressione osmotica nel plasma che siamo abituati a percepire più banalmente come fame o sete complicato? neanche troppo se si pensa che i ricercatori più radicali arrivano a elencare una trentina di sensi dando autonomia alla percezione di alcuni colori come rosso blu o verde e distinguendo fra le diverse modalità tattili e i diversi tipi di movimento e c'è anche chi sostiene che ciascun tipo di recettore olfattivo ce ne sono circa duemila dia origine a un senso a sé persino il sesto senso per anni una fola da creduloni è stato riabilitato secondo uno studio realizzato dal Washington University di St. Louis e pubblicato su Scienze l'elaborazione inconscia di informazioni che ci aiuta a prendere decisioni apparentemente immotivate ma corrette attiverebbe una specifica area cerebrale la corteccia cingolata anteriore oggi gli specialisti non studiano i singoli sensi ma le loro articolazioni partendo dalla natura chimica meccanica o luminosa dello stimolo o dai ricettori cerebrali interessati la base comune è sempre un'area cerebrale ben precisa il talamo che riceve tutte le informazioni dai ricettori e le trasmette alla corteccia cerebrale primaria e da qui alla corteccia secondaria vi ricordo che talamo e ipotalamo sono fra le parti più antiche del cervello e appartengono alla parte profonda del cervello come la migdala per le emozioni pertanto i fenomeni arrivano al talamo e dal talamo vanno poi alla corteccia cerebrale spiega Raffaella Rumiatti responsabile del dipartimento di neuroscienza cognitivo alla Sissa scuola internazionale di studi superiori avanzati di Trieste è qui che il percorso si articola in aree specializzate in cui diverse popolazioni di neuroni si occupano di aspetti diversi all'interno del sistema visivo ad esempio colore forma e movimento vengono analizzati in aree diverse qui siamo ancora a un primo livello di sensazioni precise Rumiatti che diventa percezione integrandosi con l'esperienza così vediamo luci e ombre ma percepiamo oggetti spazi o persone riusciamo ad attribuire profondità all'immagine piatta di un televisore scegliamo cosa vedere i nostri sistemi sensoriali hanno una capacità limitata grazie a un sistema di filtro che ci consente di concentrarsi sulle informazioni indispensabili altrimenti saremo sopraffatti dagli stimoli spiega Rumiatti ma l'attenzione ci consente di mettere fuoco ulteriormente concentrandoci su ciò che più ci interessa ma l'attenzione ci consente di mettere fuoco ulteriormente concentrandoci su ciò che più ci interessa è il fenomeno detto di pop out per cui riusciamo a distinguere un volto noto tra la folla ma anche il nostro nome in una conversazione indistinta a scompaginare i vecchi cinque sensi dando origine a forme parologiche sono le agnosie cioè deficit selettivi che colpiscono singole classi di stimoli mi fermo un attimo qui per ricordare per quelli che hanno partecipato ai dibattiti di stregoneria relative al crocioso stregone se ricordano quando io ho parlato della capacità di modificazione dei soggetti in espansione cioè in crescita bene la capacità di espansione di un individuo in crescita non è dimostrabile perché non esiste una verità di riferimento cioè un individuo può diventare sempre più grande ma non abbiamo dei parametri per misurarlo cioè non possiamo sapere che quella pratica di stregoneria lo può sviluppare però possiamo sapere che quella pratica di stregoneria lo può sviluppare andando al contrario cioè facendo il contrario di quelle pratiche che procurano malattie psicosomatiche o che procurano blocchi fobici alle persone in pratica non è altro che questo che sta dicendo l'articolo a scompaginare i vecchi cinque sensi dando origine a forme patologiche sono le agnosie deficit selettivi che colpiscono singole classi di stimoli cioè praticamente avevamo già visto che sia le malattie psicosomatiche sia le fobie non sono altro che dei ristringimenti e degli incasellamenti di quelle che sono le capacità emotive e le capacità fisiche e psichiche di un individuo di espandersi nell'ambiente bene agendo al contrario si può capire come l'azione contraria porta a sviluppare la persona per esempio costringere un bambino a pregare significa imporgli dei traumi psichici dei blocchi che lo ostacoleranno nel corso della sua vita portare un bambino ad avere degli esempi per i quali prendersi nelle proprie mani le responsabilità della propria esistenza si può crescere in forza e determinazione lo porta ad essere sempre più coraggioso giorno dopo giorno sempre più attento giorno dopo giorno sempre più assetato di sapere e conoscenza giorno dopo giorno cioè le due pratiche in realtà cioè la pratica coercitiva la pratica che diminuisce la capacità di una persona non fa altro che dimostrare l'esistenza dell'altra pratica cioè del suo opposto e questo l'avevamo già spiegato in incontri sul corgiore dello stregone a volte riprendo l'articolo a volte avvenire meno sono gli aspetti più elementari come il controllo di un'immagine o il movimento ci sono persone che vedono una macchia che avanza in una serie di fotogrammi separati e se attraversano la strada rischiano di farsi investire spiega rumiati mentre nelle cosiddette agnosie associative la percezione è associata a un significato è il caso di chi non riconosce le facce o perde la capacità di dare un nome a oggetti inanimati come un libro o un coltello se la vista è il nostro senso più ricco esistono anche agnosie tattili poco diffuse o agnosie uditive ad esempio l'incapacità di riconoscere la musica o una voce umana oggi sappiamo che le informazioni che riceviamo dei sensi sono più ricche e più profonde di quanto si potrebbe pensare conferma Matthew Diamond neurologo del Sissa di Trieste nel tatto intervengono 5 o 6 tipi di ricettori dedicati a stimoli leggermente differenti dolore e tatto poi sono due sistemi diversi in relazione tra loro ci sono ricettori che funzionano da campanello d'allarme e vengono attivati solo da uno stimolo più forte che rischia di danneggiare l'organismo spiega Diamond ci sono poi ricettori attivati da stimoli caldi altri sensibili al freddo e altri ancora che reagiscono alle variazioni di temperatura si spiega così l'ambiguità di queste percezioni nei singoli individui già osservata nel XVII secolo dal filosofo John Locke il quale notava che immergendo le mani in due diverse bacinelle una piena di acqua calda e l'altra di liquido gelato e poi trasferendoli in un unico contenitore con acqua tiepida se ne ha una percezione molto diversa dice Simone Gozzano professore di filosofia della scienza all'università dell'Aquila c'è anche chi associa esperienze sensoriali diverse una modalità percettiva definita sinestesia che abolisce i confini fra i sensi attribuendo sapori alle forme o colori ai numeri associando gli stimoli in modo inconsueto ma non incompatibile con l'organizzazione cerebrale non occorre però essere sinestetici per rendersi conto di come in alcuni casi i confini fra i sensi tendano a sfumare è propria la capacità di mettere insieme diverse modalità sensoriali e di rielaborare le diverse informazioni che ci permette di compiere gesti come quello di afferrare al volo un oggetto intuendo nella traiettoria il peso e la consistenza sensi e movimento sono strettamente legati ricordo Domenico Parisi dell'istituto di scienze e tecnologia della cognizione del CNR il nostro cervello mette in relazione le informazioni ottenute con i movimenti che facciamo per ottenerle si spiega così perché persone cieche della nascita se riacquistano la vista a 50 anni riescono rapidamente a riconoscere in modo puramente visivo un oggetto i movimenti che fanno con gli occhi per seguirne il contorno somigliano a quello che per anni hanno fatto con le mani ma la novità più importante riguarda il riconoscimento dei sensi interni sensi interni che ha seguito il dibattito sul corriso dello stregone ricorda il discorso sulle correnti vegetative riprendo l'articolo quelli che danno informazioni da dentro al corpo e sul proprio corpo che mi dicono dov'è il mio braccio anche se non lo vedo e poi tutto il sistema delle motivazioni come fame o sete spiega Parisi in qualche caso si tratta di sistemi complessi più che di semplici sensi il senso della posizione del corpo ad esempio viene del ricettore che si trova nelle articolazioni dei muscoli la percezione del movimento del sistema vestibolare che si trova nell'orecchio ma noi viviamo la sensazione di dove siamo come un tutto unico che è difficile scindere dice Diamond poi ci sono da esplorare le sensazioni del mondo interno con quella che i fisiologi si chiamano enterocezione ricordate le correnti vegetative anche se spesso ne siamo solo vagamente consapevoli ci sono recettori in grado di monitorare elementi diversi dalla pressione alla percezione di ossigeno nel sangue non tutti i viventi però sono uguali ci sono animali che dispongono di sensori che noi non abbiamo spiega Parisi tanto che oggi si costruiscono un robot con sensi diversi da quelli esistenti in natura oppure disegnati in modo da evolvere spontaneamente per vedere quali sensi si sviluppano date certe capacità di movimento e certe caratteristiche fisiche a un topo basta un tocco di baffo per riconoscere il liscio da ruvido la trappola del formaggio in questi altri animali i baffi o i brisse sono organi di senso che i topi usano per esplorare l'ambiente strofinandoli ritmicamente sulle superfici in un articolo sulla rivista PLOS Biology Diamond e il suo gruppo della Sissa hanno spiegato in che modo il cervello di questi animali codifiche le informazioni che provengono dalla percezione tattile e le utilizzi per riconoscere superfici diverse grazie a piscoli muscoli situati sotto la cute che agiscono come motori le vibrisse del topo esplorano le superfici con movimento ritmico che eccita i recettori sensoriali custoditi nei cuscinetti alla base dei baffi che a loro volta trasmettono i segnali ai neuroni dell'encefalo quindi ai neuroni del talamo e infine alla corteccia cerebrale dove gli stimoli sensoriali vengono integrati e percepiti le sostrazioni tattili derivate dalle vibrisse sono organizzati una vera e propria mappa cerebrale nel cervello del topo c'è un'area dedicata a ogni singola vibrisse proprio come avviene negli umani per le aree più ricche di ricettori come i polpastrelli delle mani o le labbra mentre gli studiosi più intraprendenti puntano ad allungare l'elenco fino a considerare sensi la meraviglia l'umorismo o quello che noi chiamiamo buonsenso anche se a nota gozzano per parlare di sensi dobbiamo poter contare su una componente fisiologica che ne garantisca una certa condivisibilità questo è l'articolo dell'espresso in pratica cosa ci dice questo articolo ci dice che tutti i fenomeni che noi percepiamo del mondo li percepiamo con una struttura sensoriale che è infinitamente complessa la stessa vista le stesse orecchie lo stesso tatto lo stesso olfatto è di una complessità immane pertanto io non posso parlare di cinque sensi ma devo parlare di decine decine di sensi e decine decine di organi recettori dei singoli fenomeni che mi arrivano dal mondo cosa succede succede che però io non uso tutto questo come se fosse delle porte aperte il mio cervello seleziona una serie di porte ma la capacità del mio cervello di selezionare una serie di porte anziché altre è data da come io mi sono organizzato nella mia vita è data dagli sforzi che ho fatto è data da come ho applicato la mia volontà e nella direzione in cui la mia volontà è stata applicata queste scelte che io ho fatto nel corso della mia esistenza e che hanno coinvolto la mia struttura emozionale hanno anche portato delle variazioni nella mia struttura di percezione del mondo ma anche nella struttura di selezione dei fenomeni percepiti dal mondo e questo spiega le diverse idee il diverso modo di vedere e di affrontare il mondo che hanno gli esseri umani perché non esiste fra gli esseri umani una disciplina che ci porta a sviluppare noi stessi la nostra capacità di percezione del mondo ma esiste fra gli esseri umani sociali una disciplina che porta a diminuire al massimo la capacità dell'individuo di percepire il mondo come si diminuisce al massimo la capacità dell'individuo di percepire il mondo si diminuisce al massimo la capacità dell'individuo di percepire il mondo costringendolo in ginocchio a pregare il tipo di preghiera il tipo di essere in ginocchio cioè l'atto umile sottomesso il tipo di confidare in un soggetto esterno anziché confidare in noi stessi la rinuncia a noi stessi ci portano a rattrappire quelle che sono le capacità soggettive degli individui nella loro capacità di affrontare la loro esistenza per cui la capacità di percepire di recepire i fenomeni del mondo viene a restringersi con la base sensoriale abbiamo già letto da altri articoli dove le aree cerebrali si espandono nella loro funzione tanto più quelle aree cerebrali sono interessate tant'è che si sta valutando la possibilità che il morbo di Alzheimer possa prendere le persone quando queste persone non attivano particolari aree del cervello per esempio chi studia inglese o chi studia lingue straniere attiva molte aree del cervello chi fa molto lavoro con le mani e usa le mani per palpare il mondo attiva molte aree del cervello il morbo di Alzheimer è un morbo che prende proprio quelle aree che non vengono utilizzate e da là dopo si espande in altre aree in pratica il pregare il sottomettere il costringere le persone a non affrontare in maniera appassionata la propria esistenza le porta ad uccidere la loro capacità di percepire il mondo uccidere i propri sensori cioè il gusto l'olfatto la vista il tatto perché non vengono usati o vengono usati poco tipo i cristiani che vogliono impedire la sessualità la sessualità è un modo con cui noi usiamo i nostri sensori le nostre emozioni il nostro modo di affrontare il mondo se noi non pratichiamo la sessualità perdiamo la capacità cerebrale proprio di attivare vere e proprie aree del cervello tant'è che adesso la sessualità viene è stata rivalutata in maniera notevole perché ha una funzione fondamentale nello sviluppo dell'individuo e proprio perché ha una funzione fondamentale nello sviluppo dell'individuo il cristianesimo l'ha negata l'ha repressa l'ha perseguitata proprio perché aveva paura degli individui che si sviluppavano e questo vale un po' per tutto però oltre a questo cioè oltre al fatto che i recettori vengono a diminuire oltre al fatto che vengono a diminuire le aree cerebrali su cui i recettori fanno affidamento per cui la trasmissione dei segnali dal talamo alle aree cerebrali abbiamo anche ciò che muore proprio la capacità di riuscire a comprendere quelli che sono i segnali che ci arrivano dal nostro interno cioè non riusciamo più a riconoscere i segnali dentro di noi non riusciamo a riconoscere i segnali del pressione del sangue che poi non è solo quello addirittura io ho un'esperienza per cui in una certa situazione riuscivo esattamente a sapere cosa c'era dentro a un oggetto cioè gli ingredienti che un oggetto aveva e se dentro a quell'oggetto c'erano degli ingredienti che mi potevano servire per cui noi abbiamo delle capacità notevoli di percezione del mondo capacità notevoli che vengono negate proprio dalla costrizione proprio dal fatto di riuscire a pregare e il problema è che quando le persone negano lo sviluppo di se stesso questa negazione si espande al quadrato perché le persone più sono povere e più hanno bisogno di essere circondate da persone ancora più povere di loro per sentirsi qualcuno e questo è un discorso di divulgazione scientifica il problema con la stragonaria è che la stragonaria deve rispondere a un'altra domanda partendo da ciò che io sono cosa devo fare per sviluppare me stesso e qui interviene il discorso del crogiolo dello stragone il crogiolo dello stragone fornisce la base di tutti quegli elementi che servono a una persona per incominciare un cammino di conoscenza per incominciare un cammino di trasformazione di se stessi e questo ne abbiamo già parlato in tutte le trasmissioni finora che abbiamo fatto relative al crogiolo dello stragone e ne facciamo qualche accenno anche stasera sul discorso del dialogo interno e sospendere il dialogo interno perché sospendere il dialogo interno lo abbiamo già detto in altre trasmissioni perché il dialogo interno l'ossessione del dialogo interno è una forma che blocca la nostra capacità di usare l'attenzione per percepire sia i fenomeni esterni al mondo sia i fenomeni che da dentro di noi emergono riprendendo il discorso da dove eravamo rimasti qual è la tecnica per sospendere il dialogo interno premesso che questa tecnica non serve se una volta bloccato con l'esercizio il dialogo interno non costringiamo il fluire dell'intuizione mediante il presentare alla nostra struttura emotiva la necessità d'azione al fine di risolvere contraddizioni che il nostro vivere a pieno e con partecipazione la vita quotidiana ci pone cioè questa condizione è una condizione sine qua non cioè io posso si sospendere sospendo il dialogo interno ma per riuscire a far uscire l'intuizione devo vivere cioè devo avere tutta una stimolazione devo recepire una stimolazione del mondo esterno che mi deve costringere a modificare a me stesso pertanto quando io sospendo il dialogo interno praticamente io blocco il flusso delle parole però non blocco il flusso delle immagini non blocco il flusso dei suoni non blocco il flusso delle sensazioni delle mie correnti vegetative o le sensazioni che da dentro di me arrivano semplicemente non le descrivo non uso le parole per descriverle ma guardo guardo senza pensare ascolto i suoni senza descriverli senza pensarli percepisco le sensazioni che mi arrivano all'interno sempre senza pensarle e le ascolto e le ascolto perché perché se io le penso non le ascolto se io le penso già sto dicendo che cosa sono e invece devo fermare il dialogo interno e continuare a ascoltare continuare a vedere il mondo esterno continuare a sentire i rumori continuare a percepire le situazioni tattili per esempio quando fate l'amore provate a usare le mani tanto 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 e ascoltare le sensazioni che arrivano dalle mani questa è una serie di ascoltare il mondo che ci sta attorno però bloccando il dialogo interno cioè senza proiettare sulle sensazioni che ci arrivano del mondo quelle che sono le nostre soluzioni quelle che sono le nostre deduzioni quello che la nostra ragione arriva eh sì quell'immagine è un albero ma si aperta fermati non parlare ragione sta zitta guarda e basta non chiamarlo albero guarda e basta non chiamarlo suono del motorino o suono della cornacchia ascolta basta non dire sì è un brontolio della fame lascia perdere ascolta la sensazione fatti attraversare la sensazione zitta ragione bloccate le parole guardare senza descrivere porta al vedere ascoltare senza descrivere porta al vedere odorare senza descrivere porta al vedere toccare senza descrivere porta al vedere gustare senza descrivere porta al vedere in questo caso è il giungere all'azione della memoria atavica le cui necessità e le cui soluzioni sono state sono state trasformazioni biologiche che la nostra specie ha posto a fondamento della nostra struttura emozionale non necessariamente devo avere l'esperienza della presenza del dolce in una certa erba o in un certo frutto se sospendo il dialogo interno la memoria della specie affiora è quella stessa memoria che forma la capacità di conoscere degli insetti e di tutti quegli animali che non trasmettono informazioni o ne trasmettono in minima parte mediante le relazioni culturali parentali è la capacità dell'essere umano e di ogni altro essere della natura di soggettivare i fenomeni facendoli interagire con l'azione senza essere mediati o costretti dalle parole della ragione come quando si apparteneva al regno animale dell'essere natura e le parole non alimentavano la capacità della ragione di controllare la conoscenza dell'individuo solo che noi stiamo procedendo in maniera inversa anziché fare il movimento dalla natura alla ragione facciamo il movimento dalla ragione alla natura in pratica vogliamo conservare sia la ragione che riprenderci i vantaggi nell'usare in maniera immediata gli antichi meccanismi che la nostra specie ha messo a fondamento della nostra esperienza per giungere a questo è necessaria molta autodisciplina si sviluppano altri atteggiamenti altrettanto importanti ma che personalmente non voglio tenerne conto l'imperturbabilità è un atteggiamento è un concetto proprio dei neoplatonici praticando la filosofia dei neoplatonici si giunge all'imperturbabilità l'individuo giunge a uno stadio psichico nel quale i fenomeni vengono registrati ma non li emozionano né li coinvolgono emotivamente il fenomeno non è capace di modificare la struttura emozionale dell'individuo costringendo l'individuo a reagire in funzione di se stesso così l'individuo separa la propria struttura emozionale dei fenomeni del mondo e mantiene la calma nei vortici esistenziali il problema sta nell'interiorizzazione di questo atteggiamento che blocca di fatto il processo di accumulo di energia vitale che si ottiene vivendo per sfida le sfide della vita devono coinvolgere emozionalmente l'individuo però vi ricordo che l'imperturbabilità ci permette di non farci coinvolgere da quei fenomeni che invece vorrebbero coinvolgerci in pratica l'imperturbabilità se si è padroni dell'imperturbabilità possiamo decidere da quali fenomeni farci emozionare e da quali fenomeni non farci emozionare ora io mi fermo qui con il discorso del dialogo interno anche se spero di trovare una penna in cui lasciarmi un bel segnetto e continuerò la prossima volta la prossima volta che non so quando sarà probabilmente sarà quando tornerò da Anversa dopo il congresso tanto mi fermo qui perché penso oggi di avervi dato parecchi spunti ricordo una cosina che il crogiolo dello stragone vediamo un attimo se velocemente riesco a trovarlo è formato da tutta una serie di elementi che servono per riportarsi nella natura e sono le determinazioni la volontà sospensione negli algo interno meditazione contemplazione correnti vegetative ascoltare il mondo attorno a noi palpare il mondo chiamare le cose con il loro vero nome e l'arte dell'acquato che in realtà è il vivere per sfida bene questi elementi questi dieci elementi ci riportano nella natura cioè ci riportano ad essere quegli individui che si sono evoluti ebbene per continuare l'evoluzione dobbiamo praticare questi dieci elementi dopodiché ci sono cinque elementi che servono per affrontare il mondo sociale umano ed è il toglierci dal centro del mondo lo scetticismo il giudizio di necessità chiederci il perché delle cose e la foglia controllata dopodiché ci sono quattro elementi che ci permettono di affrontare i mondi in percezione alterata cioè anche ciò che non appartiene a quella che è la forma e la dimensione di quel mondo che noi chiamiamo reale perché lo chiamiamo reale anche se in realtà è un'illusione perché è il mondo che condividiamo con altri esseri umani ed è il mondo della ragione con cui parliamo comunichiamo trasformiamo dati e viviamo in pratico organizziamo la vita sociale ebbene per riuscire a vivere sia in questo sia fuori di questo sia in mondo di percezione alterata ci sono quattro elementi che sono la sospensione del giudizio l'attenzione l'intento e il sognare e questa è la struttura del crogiolo dello stragone bene mi fermo qua sul crogiolo dello stragone e do il via alle telefonate vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838 riprendiamo un attimino i discorsi di oggi che abbiamo fatto in realtà quando noi parliamo delle notizie che ci arrivano dal mondo sociale che ci sono le notizie di stampa le notizie varie che ci giungono non è che commentiamo quelle notizie perché ci va di dire che quello è brutto e cattivo ma commentiamo quelle notizie perché quelle notizie ci portano la pratica le informazioni reali di quella che è la vita sociale di quella che è la pratica della magia nera e di quello che è invece la pratica della stragonaria per esempio quando oggi vi ho letto la sentenza della corte di Cassazione il reato umiliare i figli per cercare di educarli apparentemente è una cosa che a molte persone appare abbastanza ovvia perché da Piaget fino ad oggi tutta quella che è la scienza dell'educazione è stata abbastanza acquisita a livello culturale diciamo medio alto il problema è che non viene acquisita quando si tratta di effettivamente occuparci dei figli cioè occuparsi dei ragazzi cioè c'è sempre la tendenza di considerare se stessi cioè gli adulti hanno la tendenza di considerare se stessi individui perfetti individui arrivati individui che sono adulti e hanno cessato quel processo di trasformazione quel processo di divenire quel processo di continua costruzione di se stessi perché perché in fondo sono adulti loro basta cioè non crescono più hanno cessato di essere ragazzi che acquisiscono dati che crescono che si sviluppano e quando questo tipo di adulto si relaziona col ragazzo pone se stesso al modello cioè è la sua verità ciò che lui è giunto che pone a modello e il problema grosso dal punto di vista educazionale è che ponendo a quel modello costringe il ragazzo ad adeguarsi e l'adulto mette in atto delle strategie affinché il ragazzo si adegui al modello che lui presenta e qui cominciano i guai perché perché in realtà l'adulto stesso non è un arrivato non è uno che ha finito di crescere ma se ha finito di crescere è un morto che cammina e sta tentando in pratica di piegare il ragazzo al suo essere un morto che cammina e allora si tratta di mettere in atto quelle strategie coercitive quelle strategie umilianti quelle strategie di sottomissione quelle strategie io sono adulto tu sei ragazzo cioè di prevaricazione che servono proprio per piegare la forma psichica emotiva del ragazzo alla sua forma di adulto la sentenza in realtà della corte di cassazione ha un'importanza notevole perché va a intaccare questo modello cioè il modello dell'adulto arrivato che deve piegare al suo modello cioè alla verità di cui lui è manifestazione il ragazzo che sta crescendo qual è l'alternativa per non piegare i ragazzi l'alternativa è che l'adulto non sia arrivato cioè che l'adulto continua a crescere continua a cercare continua a sbagliare a presentare i suoi errori e continua a ricercare le sue trasformazioni nella sua vita quotidiana giorno dopo giorno soltanto presentando questo modello di adulto dinamico di adulto in ricerca e che cerca le cose per se stesso perché lui le vuole quelle cose al ragazzo che sta crescendo questo adulto riesce sia a comprendere gli sforzi che sta facendo il ragazzo per accumulare i dati sia riesce a trasmettere al ragazzo un modello di adulto relativo che non è cresciuto che non è la verità che non è l'onnipotente ma è semplicemente un individuo che sta costruendo continuamente e sistematicamente il proprio futuro attraverso tutte le condizioni che la vita può porre fino a 30 40 50 anni fa i ragazzi specialmente delle classi medio basse venivano mandati a lavorare molto presto se in pratica anche la teoria del gioco il fatto di portare i ragazzi a giocare tutto sommato è una teoria abbastanza recente si faceva a Roma Antica si faceva nella Grecia Antica si faceva nell'età paleolitica si faceva fra gli etruschi non si faceva fra i cristiani i cristiani dovevano macellare i bambini costringi a lavorare come bestie perché tanto loro erano bestie del loro dio solo un secolo recente si è compresa la funzione del gioco all'interno della crescita il problema che si è verificato dopo che si sta verificando oggi è che il gioco non è più parte integrante della crescita del ragazzo ma è una gabbia in cui si chiude il ragazzo e si separa il ragazzo dalla vita reale cioè in pratica si mette il ragazzo a giocare o davanti a televisione o davanti al console o al parco giochi o dove volete comunque una gabbia e si separa il ragazzo da quella che è la vita sociale da quelle che sono le problematiche della vita sociale il padre che torna a casa dal lavoro non racconta tutti i casini che ha avuti sul lavoro perché il ragazzo non deve sapere o perché il ragazzo lo può turbare e questi sono gli errori grossi che ci sono nell'applicazione del gioco il gioco come una cosa ma anche altre cose sono così cioè praticamente quello che sono state delle scoperte iniziali che portavano a sviluppare le persone che portavano le persone a costruirsi persone a crescere sono diventati invece degli strumenti di coercizione quando vengono usati oltre un certo livello io vi ricordo che sono Claudio Simeone il mio indirizzo è piazzale Parmesano Otto Marghera l'indirizzo dell'istituto Mediterraneo sul tipo di testi casa postale 53 Marostica Vicenza io chiudo qui la seconda parte della trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo giovedì prossimo saremo con Francesco e si aprirà la seconda trasmissione essenzialmente nella prima trasmissione a parte il discorso referendario porterò quello che è il discorso sul Vucer e quello che è il congresso che terremo ad Anversa dopodiché io salterò l'altro giovedì perché sarò al congresso di Anversa e ci vedremo al ritorno dal congresso poi vedremo le modalità non c'è problema bene vi do appuntamento allora per giovedì prossimo con la trasmissione Magia Stragoneria e Paganesimo ciao a tutti